E adesso arriva una gara importante di campionato perché contro Soverato insomma è l'unica sfida insomma faccia a faccia, le altre saranno tutte nelle ultime giornate che caratterizza questo giorno di ritorno, una partita molto delicata. Abbastanza delicata, tra l'altro fuori casa è una partita molto ardua perché il loro campo non è dei migliori e lo sappiamo già quindi basta tenerci preparati mentalmente e affrontare anche con tutta serenità questa gara senza troppe pressioni e andare lì a giocare, fare il nostro gioco senza portarci incubi o mostri.